è tutta tua come cacchio fa andar su così io non riesco non arriverai neanche lì a come fa lui io penso che si fermò lì è bravo come fa andar su così fagli vedere lui c'ha le gambe lunghe filmalo che c'è l'omicidio no come fa lui no lui va sua manetta di qua cioè lui non è mica come è stato l'ultimo colpo che te l'ha fatto rivolta ma questa qui non è il massimo tutto a manetta lascia star con la pianta Pietro è provato l'ultimo colpo che ti ha fatto l'ultimo colpo che ti ha fatto Grazie a tutti.